questa è una diretta live a una risoluzione di 7 e 20 p è una prova in vista della partita di giovedì play out c gold l'esmo contro opera è importante per opera ribaltare il punteggio che l'avere sfavorita per 1 a 0 a favore dell'esmo avendo perso la partita casalinga contro la squadra milanese spero che vada tutto bene arrivederci per giovedì sera dal palazzetto di bernaneggio ultimi minuti di diretta live offerta da canecaccia.com grazie arrivederci